Ragazzi, con la nuova stagione c'è anche una nuova mappa, e con la nuova mappa non può non esserci un video guida per la stagione 14. Pensate che è dalla stagione 8 che non parliamo della King's Canyon. Tantissime volte ho ipotizzato che sarebbe uscita la King's Canyon nuova, sarebbe uscita la King's Canyon nuova e non è mai arrivata. Finalmente, dopo 6 stagioni, siamo riusciti ad avere una nuova King's Canyon. Considerate che di genere ce ne vogliono 3 o 4 per aggiornare una mappa, quindi non so perché ci abbiano messo così tanto, ma finalmente eccoci qua con una delle mie mappe preferite, la OG King's Canyon. Allora, sono pronto e apparecchiato con il nostro classico strumento di analisi per la mappa, voglio partire subito da zero. La prima cosa per lo studio della mappa è questa, la classica domanda che mi fanno, dove è meglio atterrare? Non esiste un posto dove è meglio atterrare, dipende sempre tutto, piccolo ripasso di macro management, da come taglia la navicella. Quindi la navicella può tagliare davvero in tantissimi modi la King's Canyon, c'è forse una mappa online da qualche parte su Twitter che vi fa vedere tutte le possibilità di tagli della navicella all'inizio della partita. Quello che è importante, riprendo anche la nostra live da pad, è che più lontano andate dalla navicella più sarete safe. Ma questo non significa che sia l'unico modo di giocare la partita, potete anche giocare tra due squadre vicine in zone di interesse o addirittura da contestati. L'importante è usare la testa nel momento in cui vi lanciate, cercate sempre di guardare intorno a voi se ci sono altri avversari, oppure se non ci dovesse essere nessuno, cercate sempre di capire quali sono le squadre più vicine alla vostra posizione. Allora, la nuova King's Canyon ha delle zone nuove. Abbiamo finalmente cambiato alcune rotazioni, ci sono dei palloncini in meno, ci sono dei choke chiusi e questo cambia davvero tutto. Facciamo così, partiamo subito dagli aggiornamenti della stagione 14. Allora, ho subito cerchiato in blu le aree a cui stare più attenti perché ci sono tutti i cambiamenti di questa stagione. Alcuni sono minori, alcuni sono maggiori. Allora, una delle zone più brutte della King's Canyon della stagione 8 era tutta la parte che dava sul mare. Questa rotazione lineare era davvero brutta. Con l'introduzione di Relic, nonché Skulltown in sostanza, si ha la possibilità di uscire da diversi choke, dal portone a tutti i piccoli choke qua segnati, attraverso la città. Quindi, al netto delle chiusure che poi andremo a vedere, la città rappresenta un ulteriore buon modo per ruotare verso tutta la parte a sud-est della mappa. La Skulltown offre davvero tantissimo respiro nel gioco ed è un'area di land dove possono alterare anche due, se non tre squadre, considerando che Gauntlet ci si connette subito. Quindi, sicuramente uno dei cambi più grandi è la Skulltown, è anche l'annuncio principale di questa stagione. Le altre zone segnate in blu, Tolta Relic, che aggiunge un po' di loot a questa zona, rendendola di fatti un landing spot interessante, considerando anche che c'è Pasqualone, come lo chiamiamo noi. Gli altri landing spot sono zone che dovete assolutamente fissarvi in testa perché hanno tutti quanti delle mura che sono tutte giocabili tramite una zipline. Quindi potete finalmente salire su queste mura, così come quelle di artiglieria, tramite delle scale, zipline oppure delle impalcature che ci sono. Quindi sono tutte accessibili, come potete vedere. Finalmente hanno tolto il grande vantaggio che c'era per alcune squadre di avere l'iground o una zipline o una Q di Horizon o un pad. Questa invece, la zona di rig, l'ho voluta cerchiare perché non si può più giocare i tre pilastroni, quella gru gigante, e quindi penso sia un cambio di positioning davvero importante da registrare immediatamente. Ma ve ne starete già accorti se avete giocato un po' la Kings Canyon. La parte centrale della mappa invece ha uno dei cambi al choke e rotazioni più importanti. In realtà sono due perché c'è anche questo. Non si può più accedere a mercato e così non si può neanche più accedere a cage passando da questo choke. La zona quindi risulta molto più pulita. In queste 200 circa ranked che ho avuto modo di fare su Kings Canyon noto che gli fight si sono spostati. Prima la zona calda era questa qua rossa. Adesso si è trasformata in Italy. Qual è la differenza tra l'avere Italy, quindi questa zona qua o avamposto, se volete chiamarla avamposto, e come zona rossa della mappa invece di avere la zona di bunker, che bunker ha molto più respiro e prima ti obbligava a passare da lì. Cioè voi pensate di essere per esempio qua, ok? E dovete accedere, che ne so, a pit, ok? Perdiamo questa distanza. Come fate se sapete che tutta quest'area è pericolosissima? Cioè potrebbe arrivare team sia dalla parte nord, sia dalla vostro stesso sidecage, sia da mercato, sia dalla parte del deserto. Quest'area ha troppi choke importanti di macro aree. Difatti, se noi ragionassimo adesso con la mappa vista per macro aree, otterremmo questo. Vedete bene che la parte centrale del bunker è proprio un punto dove prima, sulla Kings Canyon della stagione 8, si intersecavano gli interessi di tutte le squadre che volevano ruotare. Da Hydro, Artiglieria e Cage, devi passare di qua. Se è riatterrato nel deserto, con runoff, airbase, ma anche questa parte piccolina di choke, devi passare o dal bunker o da questa parte. Ancora, potevi ruotare dal mercato a nord. Adesso cambia tutto. Le possibilità, difatti, si trasformano. Puoi passare da quella zona solo da alcuni lati. E la verità è che, ok che c'è la Valkyrie, che prima non c'era, o comunque si utilizzava di meno. Abbiamo avuto modo di giocare alla Kings Canyon anche già due stagioni fa. Però, il fatto che adesso la zona rossa sia Italy è facilmente superabile da più lati. Quindi, immaginando che ora il problema sia sopra questa collina, innanzitutto non sei in piano, come nella parte del fiume, ma sei in dislivello. Quindi c'è subito un vantaggio di chi è in high ground. Si vede subito da fuori se c'è una squadra che sta combattendo e si può riuscire a deviare il problema per tanti piccoli choke. Ci sono davvero tante soluzioni per tutte le squadre impegnate dai vari lati. Quindi da cage puoi salire e andartene via, ma anche da questo lato puoi scegliere dove andare. Se sei sotto al fiume, è vero che puoi salire dal choke e ti trovi davanti, ma puoi anche ripercorrere il fiume e da containment andartene davvero dove ti va. Viceversa, se tu arrivassi dalla parte di condensatore, hai tutti i choke per andartene via ed evitare la zona rossa della mappa. Vi consiglio, proprio sui cambiamenti di questa mappa, di non passare o comunque di non soffermarvi troppo in quella zona. È sempre una delle più calde. È diventato il punto nevralgico della mappa e, a differenza di come era prima, dà molto più respiro. Quindi abbiamo sottolineato forse l'aspetto più importante dei cambiamenti della Kings Canyon di questa Season 14, però ci sono ancora un paio di cose da fare. Quindi parliamo di rotazioni difensive e offensive, basandoci anche su quello che abbiamo detto, e poi le chiusure. Mentre in blu voglio segnalarvi le zone che sono spesso sottovalutate per fare delle rotazioni difensive, in rosso vi ho dato un po' i punti nevralgici che bisogna un po' sottolineare. La School Town è una delle zone che esternamente vi consiglio, infatti ho messo il marker blu, mentre all'interno è sempre un gran casino. Onestamente non ho visto tantissime chiusure all'interno della School Town, sebbene vi siano. Caustic Treatment è una di quelle zone che è sempre presa, specialmente in fase di atterraggio, paragonabile al Crash Site, le due zone più interessanti. Sebbene sia stata nerfata, sia l'una che l'altra, rimangono due dei landing spot migliori. Comunque, basando sempre alle rotazioni più complesse da fare, le zone calde rimangono map room con artiglieria annessa. Tranquillo invece sempre il passaggio da Swamps, nel senso che vi da tante soluzioni, quindi se volete ruotare, siete che ne so, da Artiglieria, una di queste tre zone, e volete passare tranquilli da qualche parte, il giro esterno dalle Swamps è sempre importante. Diciamo che tutta la parte esterna della mappa è sempre buona da percorrere, tenendo conto che le zone più pericolose sono probabilmente Artiglieria, Crash Site e la nostra School Town. Però tutto il giro esterno della mappa è sempre buono per essere fatto, togliendo appunto le zone di interesse, come possono essere Caustic, School Town e Crash Site. Quindi muovetevi sempre larghi per delle rotazioni difensive e per arrivare tranquilli all'interno della Safe Zone. Ancora, zone rosse sono tutta la parte aperta qua, sicuramente è una delle zone dove ruotare, venire a trovati è più facile, meglio passare da altre parti, non da containment. Abbiamo parlato del perché Italy, avamposto, sia una delle zone più calde. E ancora, sempre parlando di zone alte, sebbene sia stata nerfata, perché non ha più le mura, non ha più le coperture, la parte di gabbia e cage è sempre una da grande svantaggio e molto spesso vi trovate una squadra all'interno che vi tiene o vi spara, quindi è sempre meglio evitare passare esterni dalla parte di cage se state cercando di fare una rotazione difensiva. Meglio passare da altre parti. Anche la parte dentro, il condensatore, è un'altra zona da evitare e passare piuttosto esterni, sia dalla parte proprio sopra, nella foresta, sopra il condensatore, o ancora dalla parte della foresta, nella parte ovest della mappa. Quindi queste sono un pochino le zone più calde. È vero che quello che le identifica molto spesso è se c'è una grande zona aperta dove magari una terrazza, per esempio, anche qua c'è una terrazza di fatto, vi dà la possibilità di vedere tutto quanto, questo rende evitabile, possibilmente, una determinata zona, o ancora, così come succede anche a cage, tra l'altro, o ancora se ci sono degli oggetti o del loot di interesse. Queste tre zone probabilmente hanno sia la stanza della mappa, sia caossi con gli oggetti d'oro, sia school town in quanto tale, le rendono delle zone di accesso un pochino più fastidioso. Quindi se volete giocare difensivamente, il mio consiglio è sempre passare negli anfratti o nelle zone più tranquille per provare una rotazione, tenendo conto che le zone che ho segnato in blu sono di genere molto tranquille per quanto riguarda le rotazioni, vi danno tante soluzioni senza dovervi per forza imbattere con una squadra. Quindi rotazioni difensive le avete creando semplicemente delle linee tra una zona e l'altra, se volete immaginare di dovervi muovere senza toccare queste macro aree, potete tranquillamente arrivare ad airbase, per esempio, passando da swamps o da labs, facendo un giro di questo tipo, cercando quindi di evitare di essere nella posizione da rientrare nella cerchia, diciamo, delle zone più cattive della mappa. È anche una zona abbastanza terribile quella del villaggio, perché spesso è holdato, però in generale dovreste riuscire a accorgermene prima e senza la possibilità di essere attaccati da tutti i lati. Le rotazioni difensive bisognerebbe sempre farle tenendo a mente che la gente di genere gioca agli high ground, quindi se volete superare artiglieria senza problemi c'è da superare principalmente le mura. Una volta fatto questo, riuscire a scendere a valle è la cosa più semplice. Ancora, se volessi immaginare una rotazione, per esempio, ancora da runoff, volendo andare, che ne so, ad artiglieria, il giro migliore, considerando che anche Crash Site è una zona abbastanza calda, probabilmente il giro migliore potrebbe essere semplicemente passando per le parti esterne della mappa e poi dalla galleria. E qua vi ho inventato una rotazione difensiva senza passare per forza nei combattimenti. Quindi, ancora, se volessi immaginarci una rotazione da mercato fino ad arrivare a rig, quindi partendo da qua e volendo arrivare fino alla parte di rig, anche qui l'idea è passare sempre esterni alle zone di interesse. Ovvio che avere un volo sarebbe la cosa più semplice, però quello che potreste fare è passare dalla foresta ed esternamente arrivare là. Queste sono tutte le invenzioni del momento, sono tutte le mie invenzioni particolari, per dirvi che molti giocatori tendono a tenere una zona specialmente per il modo aggressivo con cui si gioca la King's Canyon. Quindi, per le rotazioni che volete fare, se si volete giocare aggressivamente, sapete che quelle zone rosse di genere vi danno la possibilità di spottare ad area tantissime persone e sapere quando andare dentro un fight. Se invece volete giocare difensivamente, allora interpretatele nella maniera opposta. Evitate quelle zone per provare delle rotazioni più tranquille. Parliamo ora delle safe zone. Allora, questo è il mio disegnino con le safe zone. Come vanno interpretate? Molto semplice, giuro. Prendete una bolla grande e la zoomeremo. Dentro la bolla grande ci sono delle bolle più piccole. Quindi la macro area, questa è la macro area di Slam Lakes, ho preso anche Pit, e all'interno ci sono delle safe da tenere d'occhio. Ci sono questi cerchi più piccoli, che sono le possibili chiusure finali. Quindi voi dovrete, quando vedete una safe 1 più o meno grande così, dovrete pensare che possa chiudere o in questo cerchio, o in questo cerchio, o in questo, in questo, come aree da tenere d'occhio. Poi ovviamente dovrete fare un beacon e scoprire ovviamente quale di questi cerchi sarà quello interno. Un esempio pratico? Eccoci qua. Questo è il nostro anello 1, va bene? Questo anello 1 comprende, come potete vedere, alcune bolle grandi. Quindi non possiamo ancora sapere dove va a chiudere. Chiuderà containment? Farà un pullback? Chiuderà Slam Lakes? Chiuderà runoff? O addirittura si sposterà da artiglieria? Allora, quando è tagliato di genere questa proiezione della bolla che avete in testa, pensate già che di genere significa che non chiuderà lì dentro. Quindi potremmo già escludere artiglieria. Tutte le altre sono date neramente. Una volta fatto il beacon avrete le idee più chiare su un ipotetico cambiamento che potrebbe arrivare alla safe. Quindi a questo punto escludete sia la parte sopra di Crash Site sia Containment e cominciate a pensare su quale delle bolle piccoline delle due macro aree sia la safe giusta. A questo punto, quando vedete che la bolla cambia di posizione, potete cominciare a giocare sulla endzone probabile perché la chiusura finale sarà probabilmente una di queste due. Ok? Quindi questo è il gioco che va fatto, è un insieme di cerchi, lo so, fa impazzire. Andiamo per zona. Iniziamo con Slum Lakes. Allora, la zona di Slum Lakes tiene un po' le cose principali che ci siamo già detti nel video della stagione 8. Può andare sia dietro su questo edificio, la safe zone, con l'annesso palloncino che hanno inserito, sia sulla high ground, anche se in realtà corrisponde più a una zona di runoff come chiusura. Ancora, la zona dei cecchini e questa casa sono i tre punti principali da tenere. Quindi mi raccomando, quando arriva la safe numero 3, potrete subito capire da quale lato della mappa giocare. Quindi se giocare nella parte ovest o se spostarvi nella torre dei cecchini. Quindi mi raccomando, spostatevi immediatamente se volete tenere zona, perlomeno, perché avete subito capito dov'è la chiusura finale. Attenzione, perché c'è anche la chiusura nella parte alta, che capita molto spesso, che la safe pulli in alto. Quindi cercate di capire quale di queste aree sono da tenere. Nel caso in cui vedeste che va verso destra la safe, quindi che si vuole chiudere su questo edificio, la cosa migliore, considerando anche che esiste questa di chiusura, è giocare sopra. A meno che non abbiate le informazioni giuste per capire che chiude la casetta sotto. Spostiamoci a crash site. Consiglio rapido, su crash site la chiusura principale è sempre in questo spazio. Quindi una volta che la safe, attenzione a questo passaggio, una volta che la safe esclude tutte le rotazioni, perché siamo già la safe 3, no? Quindi voi siete in questa situazione qua, togliamo la 4. Guardate soltanto il terzo anello che è questo. Una volta che siete sicuri che nessuno possa arrivare da dietro, perché è già safe 3 ed è improbabile, a questo punto voi avete vinto la partita, o perlomeno siete nella condizione di poter vincere tranquillamente la vostra partita, ok? Questo perché non avete più nessuno da guardare. Questi due lati non dovete più guardarli, dovete soltanto stare letteralmente in questa casa e guardare il tunnel. La partita, se non arriva una vault dal cielo, è vinta. Quindi ogni volta che pensate o avete capito che chiude a crash site da questa parte e non di qua, ma anche di qua va benissimo, quindi una volta assicurato l'high ground, guardando alle vostre spalle, assicurandovi magari con un seer di essere protetti, la partita è pressoché vinta. Andiamo ad artiglieria. Artiglieria ha come chiusura principale una nord, che non mi è ancora capitata, ma mi hanno detto che c'è, e una nella parte centrale. Queste sono le due zone principali. Artiglieria si holda di genere dalle mura, per evitare che la gente arrivi, ma anche dalle due parti di artiglieria, quindi dove ci sono i due edifici. Potete anche tenere questa zona, se siete sicuri che questa linea rossa, quindi la rotazione da dietro, sia sicura. Quindi come prima ho detto per crash site, se siete dentro la safe 3, siete tranquilli, e potete avere le spalle coperte e holdate direttamente qua. Tenere l'high ground alla fine di genere vittoria, se chiude qua, così come avere il pezzo di casa giusto, se chi dovesse chiudere al centro, anche lì è la posizione migliore da avere per l'endgame ad artiglieri. Passiamo ora alla zona della foresta. Casa centrale qua, ma anche questa, sono fondamentali per le chiusure che ci sono in questo caso. Avere le spalle coperte è sempre il mio consiglio di macro management, però le chiusure principali, ve le ho segnate, sono vicino ai tre bin che ci sono qua, quindi questa è una chiusura classica, e l'altra invece è nel pieno della foresta, dove c'era l'ex bunker della stagione 5. Tenere la casa è un'ottima idea, ci sono di genere tutte le rotazioni possibili in safe 4, la casa qua di genere è ancora safe, la gente può attaccarvi da entrambi i lati, bisogna stare attenti, però tenere la parte alta della mappa o tenere questa piccola parte qua con le palme è la zona più protetta che vi permette di avvicinarvi alla safe il prima possibile. Con lo scan del beacon sapete già dove chiude e sapete anche dove giocare. Relay, che ora si chiama Basin, ha come chiusure una in high ground vicino alla cascata, una letteralmente nell'edificio, vicino all'edificio del beacon, e l'ultima invece dall'altra parte. Tenere la high ground o tenere una delle case è la soluzione principale per riuscire ad arrivare buoni in high ground. Ci sono anche chiusure a rig, non le ho segnate, non me ne sono capitate tante, ma probabilmente ci sono le classiche chiusure che sono di genere di fronte alle porte d'ingresso o negli spazi aperti subito sotto i tubi, ma non le ho volute citare in questo caso. Andiamo ad altre, queste sicuramente più importanti. Quando avete una chiusura che va su questo edificio, tenere l'edificio è la cosa principale, più importante. Se avete la possibilità scannate il beacon perché ogni tanto va verso le swamps, verso le paludi, però se vedete che per qualche motivo la safe dovesse andare da questa parte della mappa e la 2 fosse ancora più centrale, tenere questa casa è la vostra priorità. Non fatevi troppi problemi e andate diretti su quello. Poi la 3 definisce quale potrebbe essere un pull della 4. Se la 4 improvvisamente, vedete, vi fa spostare sull'altro, sarebbe meglio saperlo in anticipo. Però l'idea è sempre tenere questa casa. La zona del condensatore invece si gioca quasi sempre o per l'iground o per le case. L'iground è leggermente meglio, tenere le case è più rischioso, ma se sapete già che la safe chiude vicino alle case, è il vostro momento di andarvene a prendere una, specialmente con le leggende giuste. Mi raccomando, integrate alle vostre line-up la conoscenza della mappa, quindi se avete delle leggende difensive da tenere in casa, una loba addirittura che vi dà delle cure ad aria, o una watson, giocate subito alla casa con un caustica anche. Se invece non avete questa possibilità, giocate a iground, anche perché può chiudere proprio in iground. Anche in questo spazio qua potrebbe chiudere. Quindi l'iground è da giocare consci delle possibilità che avete con la vostra squadra e ovviamente con più scandal beacon possibili. La zona di labs, non fatevi fregare, questo è importantissimo, chiude sempre fuori. Non c'è la possibilità di fare out heal, quindi se improvvisamente vi trovaste a essere sotto, quindi voi siete dentro i laboratori, nella zona grigia, sappiate che la safe finale è sempre fuori dai labs. Quindi chi gioca fuori, gioca fuori nella foresta, vince. Non potete giocare dentro, perché poi vi trovate che la safe 5 è fatta così. Oppure il punto finale della safe 5 è qua, e quindi voi siete dentro e morite. Quindi giocate sempre fuori, non fatevi, non abbiate mai dubbi. Quando la safe chiude dentro i laboratori, non è mai dentro i laboratori, chiude sempre fuori. Non fatevi fregare. Attenzione a questa zona qua, è una delle classiche di Kings Canyon, zona swamps più hydro. Le chiusure solite prevedono che voi teniate una delle 4 case, quindi mi raccomando tenete le case perché sono fondamentali. Così come ragazzi è fondamentale tenere l'high ground a questa parte. Se per caso vi trovaste in una safe 4 che più o meno è fatta così, ok? E quindi che comprende sia le case sotto, sia questa linea. Tenere la linea, quindi tenere quest'area dalla parte opposta a hydro, vi fa vincere la partita. Perché chiude sempre qua sopra. E avrete sempre l'high ground. Chi tiene questo ground qua, vince la partita. Se chiude in questo cerchio grande. Se invece chiude nel cerchio grande all'altra parte, di genere chi tiene le case ha un grande vantaggio. Il problema è quale casa è quella giusta? Potrebbe essere quella a nord, potrebbe essere quella a sud. Le chiusure spesso nel punto effettivo sono più o meno in quest'area, oppure nell'area comunque esterna qua fuori. Quindi le due chiusure più vicine, ok? Alla determinata casa vi portano alla vittoria. Quindi la casa più vicina è quella che poi vi fa vincere. Dovete soltanto capire qual è per ciascuna delle chiusure citate. Può anche chiudere fuori da artiglieria. C'è la zona vicino al res, in open o qua sotto vicino alla terrazza. Tenere le mura qua è un'ottima cosa, così come tenere il choke del res. Sono le due posizioni più interessanti per queste tipologie di chiudure. Map room è devastante da tenere in endgame. Avete anche lo scan interno. Se chiude da voi, ragazzi, l'unica cosa da fare è capire come giocarvi l'endgame. Perché voi dovete tenere la terrazza della map room, anche il tetto vicino al radar. Continuare a scannare con il radar la safe zone. E poi, a seconda di dove si gioca, prendete spazio e capite come si va a fare un endgame a map room. Può chiudere da tutti i lati della map room. Non è importante, non cambia la zona migliore da giocare. In realtà il lato da cui chiude cambia soltanto dove le altre squadre, esclusa quella di map room, possono giocare. Se chiude qua, le altre squadre possono giocare qua. Se chiudesse qua fuori, le altre squadre possono giocare dietro le casse della ricarica della ulti. Se invece chiudesse fuori, le squadre possono giocare dietro le mura. Quindi, diciamo, il cerchio finale cambia soltanto il positioning delle squadre. Chi è dentro map room è quello in vantaggio. Però, se voi foste una delle squadre fuori, dovrete riuscire a far fuori la squadra dentro map room per vincere la partita. Sotto terrazza ci sono un po' di safe. Ce l'abbiamo una vicino a questa zona esterna, che chiude nell'acqua. Molto spesso rimangono in safe i silos, sono molto utili. Ma è anche importante avere la terrazza. Se chiude qua, avere la terrazza è quasi game winner. Non sempre, perché dovete essere bravi a fare danno agli avversari, se volete vincerla. Oppure può chiudere sulle due casette esterne, alla fine del fiume. Ma anche qua sopra. Se chiude qua sopra, avere la casa vi fa vincere la partita. Se invece dovesse chiudere qua sotto, dipende da quanto è larga la safe. Se c'è questa discesa e dove si trova l'high ground. Quindi cercate di sfruttare al meglio, nel caso di queste due chiusure, gli high ground che rimangono da questo lato e da quest'altro lato. Se chiude alle case, andate subito a prendere le case. Chiusura al villaggio è un fight tra case diverse. Molto spesso chiude fuori, quindi addirittura si può giocare esternamente al villaggio. Quindi senza neanche avere una casa e riusciterete a far bene. Se invece dovesse chiudere su una delle case del villaggio, dovete assolutissimamente correre all'interno e prendervene una. Non ho segnato le chiusure fuori mercato e anche a questa casa. Qua ce ne sono un bel po'. Di genere tenere le case qua è importante per la chiusura che c'è relativa a questo spazio. Ma volevo in realtà parlare di school town. Ho trovato queste tre chiusure principali che ho voluto identificare insieme a questa, scusate, è una delle più classiche. Chi ha high ground in questa di genere spacca tutto quanto perché ci sono due ground a tenere importanti a seconda del punto finale che sono questi due. Con lo scan corretto avrete la posizione giusta. Ancora una safe chiude esternamente alle mura ma non l'ho ancora giocata. Un'altra invece nella zona upper qua e un'altra invece nella parte esterna. Questa l'abbiamo giocata. Si gioca molto con le mura che proteggono le varie squadre. Quindi magari una gioca da questo lato, una gioca dall'altro e una gioca magari da questa parte. Quindi è un gioco di trade. Quindi non c'è esattamente una squadra in vantaggio fino a quando non vedete l'ultimo pixel della chiusura. Però questa safe è abbastanza ricorrente. Penso più questa che non avevo neanche segnato alla casa con il pasqualone vicino. Questa è un classicone. Se la vedete giocare lato top, quindi giocare già sulla casa è la vostra carta. Esci di prigione gratis. Gauntlet è rimasta molto uguale a come era prima. Le chiusure sono tutte nella parte a sud est. Tenere questo edificio quindi è sempre la cosa migliore da fare. Le chiusure in realtà ci sono anche su questi edifici qua ma le ho segnate. In realtà non le ho segnate. Considerate che Gauntlet si gioca tutto con la squadra piazzata in questo edificio e in questo high ground qua. Per dare fastidio agli avversari. Quindi se siete la squadra in vantaggio che sta tenendo e vuole assolutamente mettere pressione. Mettetevi a metà strada tra tutte e tre i cerchi. E mettete pressione alle altre squadre per mandarle via e farle combattere tra di loro. Abbiamo infine Air Base, Run Off e la Città del Deserto. Città del Deserto le chiusure principali sono nell'open qua fuori. Ma una delle principali è proprio davanti al Chalk. Questa è un classicone. Questa di genere si gioca da questa parte qua del Chalk. Si tiene e le altre squadre invece sono dagli altri tre lati. Vedete che è tipo un attino, è tipo un più questa zona. E le squadre giocano da ogni singolo lato rispetto al cerchio finale. Quindi una qua, una qua e una qua sotto. Vi fate un po' la guerra tra di voi. Ma il lato più sicuro è questo. Unito alla squadra che riesce a prendere questa zona perché hanno i tre bin e le coperture delle rocce. Occhio che qua invece c'è un low ground. Di genere si può sfruttare ma sono sempre dell'idea che il lato migliore siano le rocce per la squadra che arriva da sud. E per la squadra che arriva da est. Sono i due lati migliori per contendersi questa safe zone qua. Lo stesso vale per questa. È molto bilanciata. Ci sono tanti head glitch da sfruttare. Chi arriva dal bunker forse ha un leggero vantaggio su questa safe qua. Ma anche chi ha la città e tiene il res. Se nessun edificio dovesse più essere in safe potete muovervi il res. Abbiamo infine airbase con runoff. Airbase si gioca su questo, su questa mura qua. Importantissime da tenere per tutte le chiusure in quest'area. Ho messo un cerchio grande ma sono tutte le chiusure in quest'area. Si giocano tenendo queste mura. Se invece dovesse giocarsi da quest'altro lato le mura importanti diventano queste. insieme all'iground della città che è questo qua. Quindi quella struttura pianeggiante in realtà è un terriccio pianeggiante alto sopra la città. È il luogo da cui avete il maggiore controllo di questa chiusura. Runoff chiude i nostri giochi. Ci sono chiusure sia nella parte sud-ovest di runoff ma i più importanti sono questi due. La safe molto spesso comprende un po' tutta la zona così. Sia golden house, come la chiamiamo noi, sia la zona centrale dell'acquitrino, sia l'accelerante della ultimate. Tutte e tre sono delle zone dove può chiudere. Capire prima dove andrà a finire la safe è fondamentale perché vi fa capire se siete in vantaggio o in svantaggio. Giocarla lato pit è fantastico e considerando che molto difficilmente pulla, cioè si sposta verso il lato della casa, giocare dal lato sinistro, quindi sia dentro runoff, sia dallo scheletro gigante che c'è in questo posto è la cosa migliore. Allora non ho citato le chiusure nella parte centrale, sono anche queste soventi, segnalo soltanto una chiusura vicino a questa casa che è importante da tenere insieme al suo high ground, quindi sono sicuramente importanti da aggiungere. Queste tre casette, queste due casette sono anch'esse importanti perché hanno tantissime chiusure vicine ad esse. La zona qua del terrazzo, anche questa qui è importante onestamente per le rotazioni, così come le chiusure che avvengono da questa parte qua di Italy, quindi io vi segnalerei personalmente tenere la casa perché la chiusura definitiva più o meno è in quest'area, se dovesse chiudere dalle parti di Italy. E ancora dentro, dentro proprio all'interno di Italy non ne ho mai trovata una, ma ce n'era una all'epoca proprio qua dove ho messo il marker, non mi è ancora capitata. Per quanto riguarda le chiusure da questo side, sebbene ne abbia viste poche, in realtà ci sono le classiche. Le classiche prevedono che voi teniate o bunker o questa casa qua, perché le chiusure finali sono di genere nell'acquetta qua fuori e di fronte proprio alla porta d'ingresso del bunker. Queste sono le principali, in realtà c'è anche una qua in open che regalerebbe una situazione migliore a chi tiene questa casa. Sincero, non mi sento di segnalarla. Queste tre sono per la parte centrale, da non dimenticare altre che non ho messo, tra cui quella a mercato, come vi dicevo, delle chiusure qua in open. Ne segniamo ancora, se no poi mi dicono che la guida non è completa. Ce n'è una qua, importante, nel low ground di Cage. E ancora, questa zona qua è molto calda e ne ha un po' esattamente in questi posti. Qua ce n'è una, qua sotto nell'open potreste averne un'altra e in mezzo alle altre buche qua. Queste sono altre chiusure importanti, segnalo anche una da questa parte e ci siamo. Quindi questi segnalini sono le chiusure dalla parte del fiume. Più o meno abbiamo segnato Exclusory e Caustic e Mercato, abbiamo segnato più o meno tutta la mappa. Spero che questa guida vi possa un pochino rinfrescare la memoria per quanto riguarda le chiusure. Studiatevi le macro aree, che è la cosa più importante meramente. Poi il singolo pixel dove chiude, vi ricordo che cambia da partita a partita. Quindi voi non potete sapere esattamente dove va a chiudere, ma dovete soltanto immaginarvi fino a una mini area, macro area, dove può andare a chiudere. Quindi immaginatela con le mie stesse bolle, una dentro l'altra, per capire dove è meglio che la vostra squadra vada. Bene, anche questo video è finito. Se la guida vi è piaciuta mi raccomando lasciate un like e un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Da me è tutto e ora andate su Kings Canyon e spaccate tutto in questo split. Tra l'altro vi servirà anche per la stagione 16-17, chissà. Grazie a tutti. Grazie a tutti.